Ciao, il mio nome è Luca di Mr.Gudget e finalmente sono pronto a presentarvi un prodotto molto interessante Huawei Mate 20 Pro Ho lasciato passare la grande abbuffata dei giorni scorsi, cioè quella delle presentazioni video che avete visto copiose, numerose da Londra oppure per chi aveva fatto il briefing qualche giorno prima anche immediatamente dopo l'evento di lancio questo perché ho voluto provare per un po' di giorni il nuovo Huawei Mate 20 Pro per parlarvene un po' più diffusamente andando anche oltre quelle che sono le semplici considerazioni di tipo tecnico partendo diciamo dall'hardware E allora, come funziona questo telefono? Guardiamolo da vicino Come sempre voglio ricordarvi che se non vi siete ancora iscritti al canale di Mr.Gudget è il momento di farlo vi dico anche che questo è un prodotto con un display superlativo Allora, questa è la versione Pro, ne esiste un'altra che invece si chiama semplicemente Huawei Mate 20 con un display ancora più grande in questo caso una diagonale da 6,39 pollici una definizione che è di 1440x3120 pixel una ratio 19,59 che porta quindi ad avere un display con una diagonale veramente generosa in una dimensione che vedete la proporzionate con la mia mano è tutto sommato abbastanza compatta un telefono con un notch un notch anche piuttosto grande vedete c'è anche il proiettore a infrarossi per la scansione del viso in 3D questo è un dettaglio molto importante per la sicurezza un lato del telefono particolarmente pulito l'altro con il pulsante d'accensione con il dettaglio del colore rosso e il controllo del volume il cosiddetto volume rocker attenzione perché qui proprio vicino al controllo del volume volume rocker c'è anche il pulsante d'accensione secondo me è un po' troppo ravvicinante a volte si tende a confondersi nella parte inferiore invece c'è la porta USB Type-C per la connessione con la ricarica oppure per la trasmissione dei dati altra particolarità di questo telefono vedete che non c'è un altoparlante nella parte inferiore perché l'altoparlante è stato inserito nella porta USB Type-C una scelta molto particolare tra l'altro l'audio viene emesso anche nella parte superiore quindi c'è un audio stereo con due speaker frontali vedete che si è bloccato il telefono vi mostro un dettaglio immediatamente metto il mio viso davanti al telefono e vedete che con la pressione del pulsante d'accensione si è sbloccato immediatamente il telefono c'è anche una funzione ulteriore quella cioè di bloccare il telefono sollevandolo e avvicinandolo al viso avete visto che si è sbloccato in automatico sulla parte frontale non dimentichiamo anche il sensore fotografico addirittura da 24 megapixel e poi sulla parte posteriore peraltro io vi faccio vedere quale bellezza non so se riuscirò mai a mostrarvi nella fotocamera questa zigrinatura che tra l'altro dà un grip molto particolare al telefono e poi le tre fotocamere ma di questo parliamo dopo e com'è questo Huawei Mate 20 Pro nella vita di tutti i giorni? strepitoso devo farvi una doverosa precisazione qualche secondo fa avete visto il launcher non ufficiale ovvero Nova adesso invece vedete quello che è l'impatto estetico normale originale del telefono con il suo drawer con le applicazioni potete scegliere voi se avere un'interfaccia con tutte le applicazioni su un unico livello oppure se avete il classico cassettino delle applicazioni di Android c'è anche la possibilità di usare le gestures per controllare il telefono devo dire però che nei primi giorni non mi trovavo benissimo e quindi ho scelto di tornare ai pulsanti tradizionali interfaccia beh ricorda molto da vicino quello che abbiamo già visto su altri prodotti Huawei ricchissimo di funzionalità perché se dovessimo stare qui a vederle tutte probabilmente staremmo un paio di settimane vi faccio vedere solo che ci sono addirittura le possibilità di gestire tre tipi di sfondi e di schermate home nel senso che potete scegliere lo sblocco con il magazine quindi con le foto che vengono inserite random potete scegliere di utilizzare i temi per personalizzare tanto all'interno del telefono quanto la schermata di blocco oppure di separare differenziare ma questo accade per tutti i telefoni la schermata di blocco rispetto al resto abbiamo visto impostazioni della schermata home c'è una buona personalizzazione del launcher a me continua a non piacere tanto mi dà l'idea di un po' di antico il launcher di Huawei ed è per quello che di solito lo sostituisco immediatamente o con Nova Launcher o con Rootless che però in questo caso su questo telefono cioè il launcher che replica l'aspetto del launcher di Pixel non funziona adeguatamente insomma tantissime davvero dicevamo le informazioni che trovate sul telefono e soprattutto le impostazioni che potete dare al vostro smartphone voglio mostrarvi ad esempio queste che sono relative alle schermate di blocco potete gestire ovviamente le notifiche che arrivano sul telefono ci sono delle selezioni importanti anche nell'area batteria perché potete ad esempio utilizzare un'interfaccia scuro che è una novità rispetto a quello a cui siamo stati abituati per quanto riguarda lo smartphone gli smartphone o meglio di Huawei riportiamo l'interfaccia chiaro l'altro dettaglio che vi voglio far vedere è questo del caricamento wireless di altro dispositivo questa credo che sia una delle cose più divertenti introdotta la carica wireless nel Mate 20 Pro attivando questa funzione voi siete in grado di caricare un altro telefono che accarica wireless utilizzando il vostro Huawei Mate 20 questa è veramente una funzionalità secondo me molto interessante peraltro vi devo dire che è molto curiosa eliminiamola adesso perché non mi serve già che siamo nell'area della batteria vi segnalo che questo telefono ha una batteria da 4200 mAh cresciuto ulteriormente rispetto a quella già gedenosa dello scorso anno ovviamente ci sono altre funzionalità che noi già conosciamo bene di Huawei ad esempio la possibilità di controllare il telefono con il movimento potete portarlo al telefono per fare una telefonata o per rispondere potete sollevare per silenziare la suoneria delle chiamate in entrata potete capovolgerlo per silenziarlo potete scrivere potete ovviamente tagliare in due lo schermo con la nocca per aprire due applicazioni sulla solita su una sola schermata e poi potete disegnare con la nocca sul telefono per catturare l'immagine e anche disegnare poi sempre con una nocca delle vostre dita sul display per accedere ad alcune funzionalità quando il display è spento insomma davvero le funzionalità che potete utilizzare in questo telefono sono al limite dell'infinito io vorrei farvi vedere anche la velocità con cui il telefono poi si muove e vi devo dire che è sempre un piacere utilizzare questo tipo di programmi di telefoni perché guardate la velocità davvero che viene fornita dal vostro Huawei Mate 20 Pro è veramente tanta tanta roba lo sapete Kirin 980 con un processo a 7 nanometri avete la possibilità anche di utilizzare una versione con 6 giga oppure con 8 giga di ram 128 o 256 giga di memoria io l'unica cosa che trovo che non mi fa proprio impazzire se devo essere sincero è il fatto che voi non abbiate la possibilità di utilizzare una scheda di memoria standard è stato lanciato un nuovo la nano memory card che ha la stessa forma di una sim ma è un formato proprietario di Huawei questa cosa non mi piace proprio tantissimo proviamo ad ascoltare l'audio come detto l'audio viene emesso poco in parte minimale dalla parte superiore dove vengono messe le frequenze alte mentre nella parte bassa essenzialmente viene emesso la parte principale del suono cioè il grosso del suono che viene emesso diciamo che è un discreto volume e una discreta qualità anche di equalizzazione rispetto al resto dei prodotti che si vedono in circolazione certo anche questo telefono non sarà lo speaker che utilizzerete per una festa con 100 persone ma se volete magari ascoltare la musica la radio avete fatto qualche cosa con il vostro telefono oppure magari semplicemente parlare in viva voce al telefono l'altoparlante ha un volume più che adatto fotocamera allora ci sono tre sensori in questo telefono un sensore da 40 megapixel è il sensore più potente che abbiamo visto all'interno di un telefono c'è un secondo sensore quello invece da 20 megapixel quello da 40 megapixel con apertura f.8 quello da 20 megapixel con apertura 2.2 che è il grand'angolo e poi c'è lo zoom il telefoto se vogliamo da 8 megapixel con apertura 2.4 stabilizzazione ottica per quanto riguarda la fotocamera c'è invece una stabilizzazione digitale con il giroscopio per quanto riguarda i video video che possono arrivare a 4k con 30 frame al secondo l'unica cosa un po' particolare è il fatto che se voi volete utilizzare lo zoom avete il pulsante abituale quello a cui eravate abituati anche se avete utilizzato il Huawei Mate la cosa particolare però è che non è facilissimo capire come utilizzare il grand'angolo in pratica dovete scendere fino a 0.6 allora in questo modo siete arrivati essenzialmente al grand'angolo quindi potete utilizzare vedete per utilizzare il grand'angolo dovete fare sempre questo giro cliccare sul pulsante fino a che arrivate alla posizione corretta un dettaglio per quanto riguarda i video potete applicare dei filtri addirittura in real time è una cosa fighissima per quanto riguarda i video è che potete selezionare un colore che volete vedere nel video questo in tempo reale mentre girate il videoclip e vedere tutto il resto in bianco e nero sempre la solita modalità pro e poi abbiamo l'alternativa al Google Lens che è realizzato da Huawei quindi il sistema praticamente interrogare gli oggetti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale avete visto avete le lenti per la realtà aumentata l'HDR la modalità panorama avete veramente un miliardo di modalità di ripresa e volendo ne potete scaricare altre anche utilizzando questo link che trovate sulla fotocamera avete poi la modalità notte che è quella essenzialmente che vi permette ecco vi faccio notare tra l'altro che potete governare ISO e anche vedete la velocità dello scatto io questo vi dico trovo che sia particolarmente importante perché l'effetto notte negli scatti di Huawei è veramente spettacolare probabilmente in questo momento vedete una foto che è stata scattata a Londra nei giorni scorsi in orario notturno veramente impressionante colori un po' dopati ma sempre molto belli e qui potete governare invece l'apertura del vostro telefono questo viene raccomandato per oggetti che non siano particolarmente vicini c'è anche ovviamente la possibilità questo è normale di utilizzare la fotocamera anteriore anche per la fotocamera anteriore vi faccio notare c'è la modalità ritratto in questo caso è un bokeh quello che viene fatto l'effetto bokeh invece che viene realizzato grazie all'utilizzo del software fotocamera però di altissimo livello anche se come per il P20 a volte forse con dei colori che non sono del tutto naturali allora come si comporta questo Huawei Mate 20 Pro beh insomma tenendo conto che costa più di 1000 euro è ovvio che ci si aspetti un prodotto di altissimo livello e in realtà è stato fatto estetica secondo me bellissima colori stupendi da questo verde esmeraldo il Twilight poi ha un effetto ancora più bello mi piace un po' meno un po' più banale forse il colore nero però davvero prodotto bellissimo dal punto di vista estetico veramente superlativo display con una leggibilità mostrosa abbiamo un display con una definizione molto elevata abbiamo un display tra l'altro con anche un angolo di visione veramente notevole fotocamera al top batteria da 4200 mAh che sembra non finissi mai c'è l'intelligenza artificiale c'è non vi ho detto un dettaglio importante c'è il sensore per le impronte digitali sotto il display ne stavamo quasi dimenticando il sensore che legge ovviamente questo è il bello della diretta adesso ha sbagliato perché in realtà di solito invece è più che preciso nel leggere l'impronta digitale vedete appoggiate il dito sopra il display appare il disegno del dito e con l'impronta digitale voi sbloccate stavo quasi dimenticandomi di questo che in realtà è una delle novità importanti c'è anche il sensore infrarossi per fare i pistola quando siete al bar e spegnere la televisione quando stanno guardando un gol nel derby insomma avete veramente la qualunque in questo oggetto non vi nascondo che è particolarmente bello mi piace molto ma soprattutto a voi piace a voi Grazie a tutti.